Cora E ora signore e signori vi presentiamo i più famosi e spedicolati piloti che partecipano alla gara senza regole, il Walkie Race È il cartone che ci teneva incollati alla tv da ragazzini e tocca spiegarlo per chi l'ha visto e per chi non c'era Nella corsa più pazza del mondo rivaleggiavano dei mostri su delle automobili improbabili C'erano i fratelli Slag sulla macigno mobile che si davano le clavate in testa per andare più forte Il macigno mobile dei fratelli Slag, Rock e Gravel Lazy Luke è l'insetto scoppiettante In penultima posizione l'insetto scoppiettante di Duke è Blubber Un montanaro che guidava coi piedi Peter Perfect il muscolosissimo pilota La prima vettura è la 6 cilindri di Peter Perfect E poi Dick Dastardly è il cane Matli All'ultimo posto sulla vettura 00 Dick Dastardly, pilota dell'astuzia proverbiale Suo compagno di corsa è il fedele Matli che lo aiuta nei suoi trucchi al limite del regolamento E tutti spesso perdevano da lei Penelope Pitstop Sta in sala divina Penelope Pitstop, la fascinante ragazza che partecipa alla corsa La biondina che arrivava prima mentre gli altri intorno a lei farneticavano E mentre Penelope Meloni continua spesso ad arrivare prima Per mancanza di avversari Intorno a lei il florileggio di mostri sembra non finire mai E all'uscita del ministro San Giuliano Investito da un carro di buoi mentre inseguiva un pelo di figa Guardi la prima persona a cui devo chiedere scusa Perché poi è una persona eccezionale È mia moglie Gli altri scalpitano per essere al centro dell'attenzione Per farsi notare Per non essere da meno E ci riescono Riescono a scavare nelle profondità dell'animo umano Per far affiorare la loro vanitosa insipienza Amplificata da una sinistra che ormai è del tutto inebetita Assente dal dibattito Basti pensare che l'esponente di sinistra più citata degli ultimi giorni dei media È Ilaria Salis Che col suo eloquio da ripetente di terza media Annuncia che le carceri minorili andrebbero chiuse Deve essere chiuso il beccario e devono essere la politica di carceri per i minori Non rese umane e funzionanti Chiuse Che si fa poi di un diciassettenne che accoltella una vecchietta Non lo sa dire Ma a questo vagito di sinistra Di là rispondono i tromboni E se c'è da tromboneggiare Parte Salvini che dice che il suo ponte sullo stretto Sarà come la cupola del Brunelleschi E come quella viene osteggiata Perché pure lì a Firenze C'erano i no cupola Anche la cupola di Brunelleschi Non aveva precedenti nella storia dell'architettura Anche ai tempi È interessante studiare come la storia si ripeta C'erano i no cupola E uno che gli chieda come straminchia Gli sia venuto in mente i no cupola Non c'è Anche perché ho come l'impressione Che davanti a Salvini ci sia ormai solo rassegnazione Come davanti al cugino Che a Natale ha bevuto troppo spumante E molesta tutti durante il mercante in fiera Ma dai lascialo fare È così cosa gli vuoi dire che tanto non capisce Poi c'è Sant'Anche Ma voi sapete quanto tempo ci vuole A costruire una destination Una brand reputation E io vorrei sapere se c'è qualcuno Pagato dalla ministra del turismo Per gestire il suo profilo Twitter E nel caso sapere quanto guadagna E soprattutto che lingua parla a casa Perché Sant'Anche spesso scrive cose Che non hanno un senso logico Che sono proprio scritte in una lingua inventata Lo fa spesso Ieri ha vergato questo componimento Meglio molti che pochi turisti Ma l'importante è la qualità E vabbè Ripeto Il segreto sarà favorire la destagionalizzazione Destagionalizzazione Scoprendo i borghi Virgola Con il loro mistero ricco di tesori di eccellenze italiane Virgola Ci aiuteranno a gestire i flussi turistici Chi? Qui manca proprio il soggetto A meno che non siano i borghi Che ci aiuteranno Nel caso manca dell'altro Manca almeno un che E i borghi che aiutano Comunque sono un concetto bislacco O forse polacco Magari in polacco La frase gira E la cosa interessante È che 24 ore dopo quel tweet È ancora lì La cosa interessante È che nessuno si è premurato Di correggerlo Di riscriverlo Di ribadire il concetto Magari nella nostra lingua madre Perché forse Ha ragione la mia amica Che dice che tanto l'italiano Non lo sa più nessuno Che cazzo pretendi Che lo sappia un ministro? Non possiamo passare Dalla subordinezione Alla carbonifossola Ma poi Alla fine arriva lui Forse il mio preferito Quell'olobrigida Di cui gira una foto In palestra In posa da palestra Con le braccia un po' allargate Sai come dopo aver fatto i bicipiti Una foto che da sola Racconta l'impossibilità Di un uomo Ecco Lui aveva avuto Un'idea meravigliosa In testa Cioè Un'idea meravigliosa In testa Ce l'ha Credo gliela abbiano messa In Turchia Ma ne ha avuta un'altra Ha messo le api Sul tetto del ministero Dell'agricoltura Nella giornata mondiale Delle api Aderimmo al progetto Dopo aver messo l'erba Sulla sua testa Ha messo le api Sul tetto del ministero Un'iniziativa unica al mondo Diceva Purtroppo però Le api Sono tutte morte 50.000 api Che sono State uccise Da Questo insetto Ovviamente Non ci sono Più Ma qui attenzione Muoiono le api Comincia il perculaggio Al ministro E a quel punto Lui risponde Sale sul tetto E fa un video Di 6 minuti In cui parla Delle api Cioè Secondo il ministro La gente dovrebbe dedicare 6 minuti A sapere perché Le sue api sono morte Non so se c'è un limite Alla mitomania 50.000 Non sono Una Strage irrecuperabile Sono un grande dolore In particolare Per chi qui nel ministero Come me Ha aderito Al progetto Comunque io Che sono credo L'unico al mondo Ad aver buttato via 6 minuti Vi posso annunciare Che le api italiane Sono state massacrate Da un pericolosissimo Calabrone orientale Questo Essere Calabrone orientale O Vespa orientali Se nel suo nome Tecnico Legacy Extra comunitario Ma Da quanto capito Basterà una sessione Di bicipiti E il tutto Rientrerà Le api Verranno rimesse Sul tetto E i nostri ministri Tireranno dritto Sprezzanti del ridicolo Che li accompagna In ogni uscita Aspettando Il nuovo arrivato Giuli Ministro della cultura Che suona il flauto In onore agli dei pagani In mezzo a un campo di grano Riempendoci di speranza Per il futuro La terra Spendente Che avvolge Nel suo cerchio Il raggio celeste Fecondatore Kerres Scusate un piccolo aggiornamento Nel pomeriggio Loro Brigida Ha pubblicato Un altro video Di altri 4 minuti In cui riparlava Delle api E del ripopolamento Delle api E attaccate Dai calabroni Siamo a dar vita Nuovamente All'alveare Questo avviario Straordinario Oggi è tornato a vivere Ovviamente Non sono mancati Già i primi attacchi Di questi aggressori Altri 4 minuti Della nostra vita Buttati nel cesso A domani Per commenti O suggerimenti Scriveteci a Nonhanno un amico At gmail.com O Nonhanno un amico At coramedia Punto com Nonhanno un amico È un podcast Di Cora News Prodotto da Cora Media È scritto da Luca Bizzarri Con Ugo Ripamonti E la collaborazione Di Manuela Mazzocchi La cura editoriale È di Francesca Milano La supervisione Del suono E della musica È di Luca Micheli La post produzione E il montaggio Sono di Filippo Mainardi Il producer è Alex Peverengo Le fonti dei contributi audio Sono indicate nella sinossi Grazie mille Al Growing Pele Grazie a tutti.